Questo video mostra alcune delle funzioni avanzate dell'app Rainbird Mobile. Alcune delle funzioni illustrate in questo video possono essere disponibili solo su determinati programmatori Rainbird. Se vuoi gestire più di due o tre programmatori, l'app Rainbird ti offre la possibilità di creare gruppi. Tocca l'icona Impostazioni e poi tocca Aggiungi gruppo programmatori. Dai un nome ai gruppi. Quindi abilita i programmatori che vuoi includere in questo gruppo e tocca Avanti. Per aggiungere o rimuovere i programmatori dal gruppo basta toccare l'icona Matita e apportare le variazioni desiderate. L'app Rainbird fornisce importanti notifiche relative al tuo sistema di irrigazione che possono aiutarti a gestire meglio il tuo sistema o il tuo giardino. Della schermata principale tocca l'icona Impostazioni ed abilita Invia Notifiche. Poi apri la scheda del programmatore e tocca l'icona Impostazioni situata nell'angolo in basso a destra. Espandi la sezione Notifiche ed abilita le notifiche che vuoi ricevere. Tocca Avanti per salvare queste impostazioni. Nella sezione Info programmatore puoi aggiornare la password che permette l'accesso al programmatore. Puoi anche visualizzare le impostazioni Rete, cambiare le impostazioni Wi-Fi o visualizzare le informazioni di Rete. Per esempio, se acquisti un nuovo router e cambi la password della Rete, in questa sezione puoi aggiornare l'informazione sul programmatore. Per maggiori informazioni visita il nostro sito web.